Il Consiglio regionale modifica la legge che nel febbraio del 2005 aveva istituito la riserva del Borsacchio, tagliandone pesantemente i confini. Una decisione che ha scatenato un coro di polemiche. Abbiamo appreso, come abbiamo scritto, con un comunicato chiaro e in qualche modo deciso, con sgomento e con grande incredulità, quello che Regione Abruzzo, a firma di cinque consiglieri, nella notte appunto del Consiglio regionale che approvava la finanziaria regionale, ha approvato un emendamento che taglia la riserva del Borsacchio da 1.100 ettari a 24 ettari. È un fulmine accelsereno per tutta la città, per l'amministrazione che, come abbiamo detto, non è stata coinvolta e probabilmente i consiglieri che erano in aula sono stati presi anche alla sprovvista, non hanno saputo se non alcuni addirittura astenersi e qualcuno votare contro, ma il fatto che ha colpito è che non hanno in ogni caso alzato nessuna barriera per bloccare quello che oggi in tanti gridano come scempio. Per quanto ci riguarda, noi vogliamo capire, abbiamo contestato il metodo, prima di tutto perché, come viene citato sicuramente in tante leggi di riperimetrazione delle riserve, in tante sentenze anche di Corte Costituzionale piuttosto che Consigli di Stato, c'è bisogno per fare questi atti di una concertazione con il territorio e quindi con le amministrazioni, cosa che non c'è stata. A proposito su questo voglio ribadire come l'amministrazione ha stretto contatto con Regione Abruzzo e con i dirigenti, è in questi mesi pronta ad adottare in Consiglio Comunale le osservazioni che stiamo contro deducendo, quindi c'è stato un rapporto costante fino a qualche settimana fa con i vertici di Regione Abruzzo a livello dirigenziale, che sono a questo punto, mi pare di capire, anche loro in qualche modo non consapevoli di ciò che stava avvenendo. Credo che in questa fase, come ho detto nel comunicato, come ho detto in un'intervista precedente, ci sia necessità di unità e di capire qual è il fine unico, quello di salvaguardare un territorio che deve capire quali sono le motivazioni e soprattutto bloccare quelle che sono delle azioni che noi in questo momento riteniamo non consone per lo sviluppo turistico e della salvaguardia del territorio.